Polemiche tra Papa Francesco e la Turchia. Il Santo Padre nel corso della udienza di ieri in Vaticano ha parlato delle persecuzioni in corso contro i cristiani nel mondo, con particolare riferimento anche al genocidio armeno, una dichiarazione che le autorità turche hanno definito inappropriate e faziose. Prima il ministro degli esteri di Ankara ha chiamato l'annunzio apostolico Lucibello per protestare e subito dopo Ankara ha anche richiamato l'ambasciatore alla Santa Sede.